Da quel che dicono da Bordocampo, il Mister avrebbe deciso per una difesa a tre, ma ben sei centrocampisti. Un approccio senza dubbio interessante, difficile dire dove risiede l'equilibrio quando hai una zona del campo così intasata. Credo che un paio dei centrocampisti più avanzati a tratti giocheranno più da ali in supporto dell'unico attaccante. E' una transizione che trasformerebbe lo schema in un più classico 3-4-3. La partita è già cominciata. E trova il compagno. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Tentativo di allungare il gioco. Scatta verso il pallone. Cerca il numero. Brozovic. Barella. Calcio di punizione per l'Inter. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Non è vicinissimo, ma chissà. Se se la sente fa bene a provarci. C'è la Noglu. C'è la Noglu. Straordinaria giocata. Una traiettoria strepitosa. Che giocata. Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Decidono di giocarla all'indietro. Gulder. C'è il lancio lungo. Kalinic va a raccogliere il passaggio. Bastoni. Perisic. Cialanoglu. E passa. Traversione di Cialanoglu. Allontana. Cialanoglu. Il portiere si oppone. Non è stata una parata perfetta. Ma se l'è cavata. Il pallone arriva a Gede. Vede l'inserimento del compagno. E trova. Rimane il portiere da battere. Lautaro Martinez. Un'altra conclusione. La sfera entra in porta. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Era il posto giusto al momento giusto. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante. Di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Due gol di vantaggio e partita in discesa. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Era un tentativo apprezzabile. Cialini. La toglie dalla porta. Che parata. Certo. Non un intervento di routine. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Opta per il lancio lungo. Calcio di punizione per l'Inter. Per l'arbitro non è rigore. Calcio di punizione dal limite. Eh, da lì potrebbe anche trovare la porta. Eh, la difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol. Altrimenti si mette malissimo. C'è la Noblu. Prova la conclusione. La sua conclusione. E manca lo specchio della porta. Palla che torna nella zona del portiere. Il portiere la caccia lontano. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lazzovic. Lungo passaggio in avanti. Iniziativa promettente. Ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Degel senza compromessi. Si ferma qui la manovra. Ci mette il fisico. E conquista il pallone. Zaccagni aveva pescato magnificamente il compagno. Zaccagni perde l'attimo per calciare. L'azione sfuma. Sceglie il lancio lungo. Kalinic. Si fa vedere per ricevere. Bastoni. De Vrij. C'ha la Noblu. Mostrano un buon controllo del gioco. Hanno già riconquistato palla. Kalinic. C'è una rimessa laterale. Il pallone è uscito. Cross di Kalinic. Tentativa in avanti. Lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Pallone lungo in verticale. Non impenserisce la difesa. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Grande movimento nello spazio. Bello intervento difensivo. Zaccagni. Difesa energica e decisa. fa avanzare l'azione con il lancio lungo. il pallone lungo. Bala intervento. Bala intervento. Bala intervento. Bala intervento. Situazione spinosa ma il suo intervento è stato providenziale Scodella in avanti Palla persa, gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva Prova con la palla lunga, ottimo intervento Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario Vlazovic Palla intercettata Dzeko Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Calcio di punizione per l'Inter E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti Alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli Cercare di farlo ragionare perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così Ci mette la testa Salva la sua porta Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido E ha reggito bene C'è la palla lunga in avanti Pallone intercettato tempestivamente L'azione poteva diventare davvero pericolosa Pallone lungo in verticale Vede la porta Un intervento impeccabile E l'arbitro manda tutti a prendere un teccaldo Si chiude così il primo tempo Squadra a riposo Opinioni sulla gara fin qui L'Inter ha tramortito gli avversari con un 1-2 letale Approfittato del disorientamento della difesa dopo il primo gol per ripetersi e allungare subito dopo 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione L'azione è già ripresa Zaccagni prova a prolungare Ultimo passaggio impreciso Poteva essere una buona opportunità Al centro c'è sempre meno spazio Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio C'è Chierini Gülter Lungo pallone in avanti Grozovic Cercano un'azione veloce Ben fatto E' intervenuto quando c'era bisogno di lui Lazzovic Un'altra azione in copertura Si salvano con la traversa E arriva il gol E con un vantaggio di 3 gol La partita è quasi chiusa Si è avventato sul pallone L'ha messo dentro Questo è quello intuito Che ti fa capire prima dove finirà il pallone E' una dote fondamentale In area di rigore Si riparte dal 3 a 0 Lungo passaggio in avanti Riceve un pallone interessante E il portiere fa suo questo pallone in mezzo Barella Brozovic Brozovic Sicuro in fase di palleggio Guadagna metri Kavlic Barella Lozovic Si fa largo con grande determinazione Attenzione Grande chance Balla di nuovo sotto il loro controllo Zaccano Ecco il tiro Prova a velocizzare Tenta la conclusione L'arbitro Con l'assistenza Le guardaline Dice Che c'è stato offside Scrinia Ferma l'azione in modo falloso Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari Provano a ripartire da dietro Ceccherini Vuole la profondità L'azione si stava facendo pericolosa Ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo Fa avanzare l'azione con il lancio lungo Marcature strette A quanto pare Le individualità forti ne risentiranno Chiaro che qui ci sono giocatori molto pericolosi Capaci di sfruttare al meglio gli inserimenti Devi stare incollato a questi elementi Non puoi permetterti una sola distrazione Salva Barella E il portiere dice di no Ultimi controlli a bordo campo Passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la docia Vidal avrà il compito di creare occasioni in profondità Con i suoi doti di uomo assist Si libera la grande Attenzione Valti Splendina nozione del portiere Palla allontanata senza troppi complimenti Cialanobli Oggi è andata a segno Bella apertura La qualificazione sembra in cassaforte È probabile che adesso pensino a conservare il risultato Piuttosto che a macinare gioco Brozovic Cerca la profondità La mette in avanti Ha la possibilità di andare verso la porta L'appoggio sulla fascia Brozovic L'avversario ha avuto la meglio Ottiene un buon calcio di punizione Ottimo il fraseggio La allontana con forza Il pallone ha superato la linea Rimessa laterale Palla filtrate per Ceco Ceco È solo il grande intervento del portiere Vidalgoll Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno Ma lui non c'è riuscito Ha dimostrato grande reattività Non si è lasciato sorprendere Raggiunto Vidal Allontana il pallone Palla in out Ci sarà rimessa laterale Darmian Darmian Brozovic Ceco Un salvataggio molto efficace Splendida Ceco Il portiere è pronto Vinto E legge accomodamente verso la vittoria Cerca la profondità Brozovic Sembrava un buon corridoio Ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva Sulla fascia In profondità Calci di punizione per l'Inter Devrai Ottima pressione la sua Chance Pertinano E ecco il gol Ecco il gol E vedremo se questo gol Dara loro la forza mentale Per credere nell'impresa Non si può commettere una papera del genere In quella zona di campo Hanno costretto la squadra avversaria All'errore con il loro pressing alto Un gol cercato con la tenacia Verona Accorcia lo svantaggio Che adesso è di due reti Continua ad avanzare verso l'aria Ottima iniziativa Ma si è scontrato con i difensori Era lanciato in porta Ma la difesa ha chiuso bene Scodella in avanti Pallone intercettato Intervento davvero provvidenziale Lautaro Martinez Subisce fallo Guadagna calcio di punizione Qui mi sembra un po' lontano Forse farebbe meglio A cercare qualcuno In area di rigore E' un grande riflesso qui E qui il portiere Si è addirittura superato Ha colpito bene la palla Ma il portiere ha risposto Veramente alla grande Vediamo se il lancio Arriva a destinazione Riceve la palla Se ne va Cerca lo spunto Quest'errore potrebbe essere di fatale Letteralmente affondato in area di rigore Vediamo che succede Hanno offerto la migliore Delle opportunità Di segnare ai propri avversari Non sbaglia Possono tornare a sbagliare Nonostante la pressione È stato perfetto E non ha sbagliato Ha spiazzato il portiere Ottimo rigore E c'è il boato del pubblico Si chiude la sfida Triplice fischio dell'arbitro Hanno portato a casa la vittoria Con uno scarto minimo Al termine di una gara Senza esclusione di colpi Come giudichi La partita che abbiamo Appena finito di vedere Luca È vero che affrontiamo